Ecco, mi aggancio al suo discorso per ricordare che non solo il creditore fondiario si deve insinuare nel fallimento ma sulla base della normativa attuale si deve insinuare entro l'anno. Per cui nel caso in cui il creditore fondiario non presenti domande di insinuazione nell'anno si pone il problema dell'eventuale ripetizione delle somme che sono state incassate perché appunto non ha diritto per ritenerle. Dunque, adesso andiamo ad affrontare invece il tema dell'intervento notarile nelle procedure concorsuali e quindi parleremo dell'atto pseudonegoziale di alienazione nell'ambito della vendita fallimentare e del concordato preventivo. Ce ne parlerà il dottor Claudio Calderoni, notaio in Pisa che ha anche preparato del slide. Grazie Presidente. Io sono molto contento di essere stato invitato a questo convegno multidisciplinare direi ma soprattutto multiprofessionale perché penso, parafrasando il titolo del convegno, che le contiguità tra le nostre attività, parlo delle attività del magistrato, del notaio, del commercialista e dell'avvocato, siano superiori alle distanze. Distanze che, soprattutto nei rapporti con i commercialisti negli ultimi anni, si sono accresciute per motivi che a noi sembrano, a ben pensare, forse occulti, ma forse più che motivi occulti ci sono stati degli interessi imprenditoriali, dei gruppi imprenditoriali che hanno accresciuto le distanze tra notaio e commercialisti. Invece il settore del diritto fallimentare è uno di quei settori giuridici ed economici in cui le contiguità tra le professioni si rivalutano e si accrescono. E quindi l'amicizia e la collaborazione tra le professioni e soprattutto la collaborazione con la giustizia, secondo me, sono fondamentali. Per questo che ringrazio gli organizzatori, la dottoressa De Simone e soprattutto il presidente del Consiglio Notario di Mantova, il notaio Daniele Molinari, di avermi invitato in questo scenario che per me è abbastanza anomalo e mi colpisce molto e mi emoziona anche. Le contiguità tra le professioni forse si possono vedere anche nel uno dei più noti avvocati della storia, Marco Tullio Cicerone, che ha pronunciato forse la più famosa ringa, quella del Quousque Tandem, Catilina, Butere, Pazienza Nostra, non come avvocato ma come magistrato, come console in carica. E quindi probabilmente volerci arroccare dietro le nostre toghe, i mantelli a ruota o le differenze tra le professioni è forse una battaglia persa, una battaglia che potrebbe portare alla rovina delle professioni. Per cui ribadisco il mio gradimento per poter parlarvi da questo palco. Cicerone distingueva appunto tra ozium filosofico e negozium come attività negoziale, come attività appunto del foro, della trattativa, diremmo in inglese del berghe e no del business. Oggi invece io vorrei sottolineare la dicotomia tra negozium e judicium, la dicotomia che c'è tra l'atto negoziale e il provvedimento del giudice. Dicotomia che però proprio nel settore del diritto fallimentare, come il consigliere Macagno ha fatto notare prima, si attenua e come le distanze tra le varie professioni viene quasi a eliminarsi. Per cui il provvedimento del giudice si avvicina a un intervento in un atto negoziale. Il decreto di purgazione in effetti è quasi un pezzetto dell'atto negoziale. e viceversa l'atto notarile di trasferimento, l'atto notarile conclusivo della procedura di vendita è probabilmente più simile a un provvedimento del giudice che a un atto notarile in senso proprio. Purtroppo io sono un relatore pratico ed è particolarmente difficile essere relatore pratico a un convegno multidisciplinare perché rischierò di dire delle cose ovvie per i colleghi notai o delle cose magari poco interessanti per gli altri e viceversa. Per cui mi dovrete scusare se su certi argomenti sarò troppo di settore, troppo specifico e su altri magari che qualcuno vorrebbe approfonditi di più, volerò piuttosto alto. Allora entrando nel merito, io ho parlato di atto di trasferimento e delle varie esecuzioni perché c'è l'esecuzione individuale e non c'è dubbio c'è l'esecuzione concorsuale ma c'è anche la vendita nell'ambito del concordato preventivo e c'è poi un tipo di vendita che francamente non saprei esattamente come qualificare ma che forse è un altro tipo di esecuzione ed è la vendita eseguita dal curatore fallimentare in esecuzione di un contratto preliminare stipulato dal fallito in bonus. Vediamo a livello introduttivo appunto come si concludono queste che ho chiamato varie esecuzioni. L'esecuzione forzata individuale come tutti sappiamo si conclude con un provvedimento del giudice con il decreto di trasferimento il quale è disciplinato all'articolo 586 del codice di procedura civile. La vendita fallimentare che appunto trae la sua disciplina come ci ha ricordato il consigliere Macagno negli articoli 104 e 108 fino al 108 ter della legge fallimentare non ha un'indicazione specifica sulle sue forme di conclusione cioè non c'è scritto nella legge fallimentare con cosa si conclude la vendita. La legge fallimentare dice una volta eseguita la vendita ma questa vendita come si esegue non è scritto. E se poi passiamo al concordato preventivo quello concessione di beni anche qui c'è la norma ancora più criptica o diciamo silenziosa silente perché l'articolo 182, il quinto comma della legge fallimentare rinvia ad alcuni articoli della legge fallimentare stessa sulla vendita fallimentare ma non richiama ad esempio richiama alcuni di questi articoli partendo dal 105 non richiama tutti gli articoli precedenti per cui ci lascia un margine parecchi margini di riflessione. Se poi pensiamo alla vendita stipulata al curatore fallimentare in esecuzione del contratto preliminare e stipulato al fallito in bonus e di cui il curatore ritenga di dare esecuzione vediamo che qui siamo in un volo, in un lancio senza rete perché sarebbe apparentemente letteralmente una vendita negoziale ma io avrei parecchi dubbi sul fatto che si possa considerare una vendita di carattere negoziale anzi vi dico subito che secondo me è una delle esecuzioni anche quella. In questo devo dire che mi hanno aiutato molto le relazioni del consigliere Macagno del giudice del Tribunale di Pordenone perché hanno detto con la tranquillità che può avere la giurisprudenza alcune cose che invece da notaio io avrei difficoltà a dire la natura di atto esecutivo della vendita firmata dal notaio o la sostanziale interpretatio abrogance dell'articolo 41 del test unico bancario sono cose pesanti per noi notai poi pesanti sono cose forti e quindi mi conforta molto averle già sentite perché poi mi aiuteranno molto in quello che dirò dopo. Partiamo allora dal decreto di trasferimento qui non darò probabilmente fastidio agli avvocati che ne sanno tantissimo ma forse per i notai e i commercialisti ripetita Juvent il decreto di trasferimento è chiaramente un atto giudiziale è un atto del giudice è un atto tipico del processo esecutivo ed è un atto che è emesso dal giudice delle esecuzioni dico che è emesso dal giudice di esecuzione perché nel sistema delle vendie delegate vedremo poi che il compito del giudice è leggermente diverso da quello tipico del giudice nell'emanazione di un decreto o di una sentenza è un atto che viene soggetto a registrazione fiscale presso l'agenzia delle entrate alla trascrizione dei registri immobiliari che anche questa avviene presso l'agenzia delle entrate atteso che dal 5 dicembre del 2013 o 12 non ricordo non c'è più l'agenzia del territorio ed è un atto che è soggetto a voltura negli atti catastali dico queste cose abbastanza ovvie per ricordare che questo è anche un titolo esecutivo ovviamente ma per dire che è un titolo di proprietà cioè il decreto di trasferimento alla fine per l'acquirente è l'atto che attesta la proprietà della cosa e che farà poi il punto d'appoggio su cui si baserà il futuro trasferimento di quell'immobile l'attività di redazione nel decreto di trasferimento l'attività di trascrizione e l'attività di voltura hanno una loro intrinseca diciamo complicatezza sono cose particolari molto tecniche e credo di non poter essere denunciato correlato per diffamazione se dico che nella mia esperienza professionale raramente ho trovato un decreto di trasferimento trascritto una sola volta quasi sempre l'ho trovato trascritto e poi rettificato questo perché il tecnicismo che c'è nel decreto di trasferimento è tale che l'errore nella voltura o nella trascrizione che negli atti notarili consentitemi di dirlo è piuttosto raro nel decreto di trasferimento è frequente perché la cancelleria fa un altro lavoro ecco perché riusciamo a capire perché il legislatore del 1998 ha previsto la delega al professionista perché questa è un'attività che rientra nel processo esecutivo ma è un'attività che poi porta a un titolo che entra nel regime di circolazione degli immobili e che può creare problemi alla circolazione dell'immobile stesso quindi deve essere fatto da soggetti che si occupano per professione di questo tipo di attività e come osservava anche il consigliere Macanti il decreto di trasferimento è disciplinato quanto alla sua stabilità dalle norme degli atti giudiziari però è una stabilità diciamo così rafforzata per le norme del codice civile l'articolo 2929 dico una cosa che potrà sembrare strana ma c'era dottrina l'indomani e l'entrata in vigore del codice parliamo di una settantina anni fa che parlava ancora di acquisto a titolo originario a seguito dell'esecuzione forzata individuale ovviamente è assolutamente un acquisto a titolo derivativo e anche se il quivis del popolo dice io ho acquistato dal tribunale sono tranquillo io mi sentirei di poter dire citando uno studio a firma della collega Annalisa Lorenzetto Peserico che ci parlerà oggi pomeriggio uno studio del Consiglio Nazionale in cui si può andare a leggere come la stabilità del decreto di trasferimento e la sicurezza del decreto di trasferimento è probabilmente inferiore alla sicurezza di un atto notarile normale perché c'è proprio questa interferenza tra negozium e judicium e quindi ci sono i rischi dell'atto negoziale e in qualche modo i rischi dell'atto giudiziario quindi sul decreto di trasferimento abbiamo speso alcune parole e diciamo che il decreto di trasferimento è l'archetipo della vendita forzata un archetipo che però adesso viene relegato in un angolo nei momenti in cui passiamo alla nuova vendita fallimentare questa diapositiva in effetti dice le stesse cose ovviamente peggio di come ha detto il Consigliere nella prima relazione riassumo rapidamente che l'alienazione dei beni immobili dell'ambile procedura concorsuale fallimentare in seguito della riforma, della controriforma del decreto correttivo e tutto il resto avviene con tre possibilità sostanzialmente la possibilità della procedura tramite operatori specializzati che però per i beni immobili è diciamo così residuale al di là poi delle problematiche relativa all'attuazione concreta della norma sul punto può avvenire allorché il curatore facendo un passo indietro rilascia al giudice il compito di procedere alla vendita secondo le norme dell'esecuzione dell'esecuzione individuale secondo le norme del codice di procedura civile oppure sono introdotte queste procedure competitive che sono state già delineate dai relatori che mi hanno proceduto e che prevedono questo sistema nuovo della vendita fallimentare sistema nuovo della vendita fallimentare che parte dal programma di liquidazione che è approvato dal comitato dei creditori articolo 104 ter della legge fallimentare sulla base di stime effettuate da operatori esperti mi soffermerei su questo perché parliamo di contiguità e di distanze e mi sembra che le due esecuzioni facciano un gioco come se si specchiassero perché la procedura competitiva è totalmente destrutturata però in fondo è una procedura esecutiva e quindi la sua struttura ancorché destrutturata in qualche modo si appoggia alle caratteristiche dell'esecuzione individuale le stime effettuate da operatori esperti sono fondamentalmente delle perizie che non sono poi molto diverse dalle perizie effettuate dal CTU classico nell'esecuzione individuale queste procedure devono avere adeguata pubblicità devono avere un sistema di offerte incrementali come in realtà nella vendita all'incanto senza la candela vergine che fortunatamente rimane relegata in qualche volume polveroso del foro italiano la trasparenza e regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell'offerente il che vuol dire come ha osservato il consigliere Macagno che possiamo anche procedere all'alienazione dell'azienda sapendo che essendo un'azienda che ha 500 dipendenti potrà essere comprata solo dalla multinazionale cinese però noi dobbiamo mettere in condizioni chiunque di poterla acquistare e ovviamente quindi per regole prestabilite di scelta regole non discrezionali e assoluta apertura al pubblico qui mi corre doveroso citare uno studio del consiglio nazionale notariato firmato all'avvocato da Damo che poi è stato pubblicato anche in studi e materiali del consiglio nazionale perché per noi notai è un po' la bibbia della procedura competitiva e invito i colleghi che poi si trovassero nelle vendite fallimentari a leggere questo ponderoso studio che è stato approvato nel 2007 e poi ha avuto delle modifiche perché è fatto molto bene anche perché è scritto da un avvocato e non da un notaio ed è molto utile andiamo alla diapositiva successiva e qui entriamo un po' nel vivo del mio intervento come si conclude la vendita fallimentare a mezzo di procedura competitiva abbiamo detto che c'è assoluta libertà ad opera del curatore non c'è una formalizzazione non c'è la candela verge non c'è un cittivo obbligatorio ma non ci sono neanche delle norme ma questo fatto che non ci siano delle norme specifiche non vuol dire che questa cosa non si inserisca in un sistema la tenuta della proprietà immobiliare in Italia che poi anche la tenuta del sistema bancario italiano dopo la crisi dei mutui subprime è dovuta anche al sistema del credito fondiario al sistema dei registri immobiliari a quel sistema che nei paesi africani non c'è o in alcuni territori della Grecia non c'è e che crea difficoltà allo sviluppo dell'economia il sistema dei registri immobiliari è la fonte della ricchezza cioè la fonte della sicurezza della ricchezza immobiliare di un paese se io non so di chi è una casa quella casa non è ipotecabile quella casa non è vendibile quella casa non è ricchezza detto questo possiamo andare a riflettere su come questa casa che è stata comprata magari con un atto notarile vada a essere trasferita nell'ambito di questa procedura competitiva andiamo alle norme l'articolo 108 secondo comma della legge fallimentare cosa ci dice che scusate per i beni immobili e gli altri beni scritti in pubblici registri una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo il giudice delegato ordina con decreto la cancellazione eccetera eccetera quindi abbiamo abbiamo alcune cose importanti ma leggiamo anche il primo comma dice il giudice delegato su istanza del fallito del comitato dei creditori o di altri interessati previo parere dello stesso comitato dei creditori può sospendere con decreto motivato le operazioni di vendita qualora ricorrono gravi e giustificati motivi ovvero su istanza presentata dalle parti questa norma richiama come strutturazione come concetto di base l'articolo sbaglio 586 insomma l'articolo del codice di procedura civile che consente al giudice una volta eseguita la giudicazione di sospendere l'emissione del decreto di trasferimento però qui c'è una differenza fondamentale il decreto di trasferimento non è previsto e è anche chiaro che il giudice emette il decreto di purgazione una volta eseguita la vendita quindi è chiaro che non basta il verbale di aggiudicazione il titolo di esecuzione della vendita non è il decreto di purgazione perché altrimenti la legge avrebbe detto il giudice nell'emettere il decreto di purgazione trasferisce l'immobile e si dice anche che il giudice può fermare la vendita impedendola quindi è chiaro che noi abbiamo la giudicazione il pagamento del prezzo e poi il decreto di purgazione una volta eseguita la vendita c'è qualcosa al centro che cos'è questo qualcosa al centro che consente il trasferimento dell'immobile avevo detto prima in maniera un po' pedante che il decreto di trasferimento del 586 va registrato all'agenzia delle entrate va avolturato negli atti catastali va trascritto nei registri immobiliari è proprio questo tipo di adempimenti e la tenuta dei registri immobiliari che ci fanno capire come occorra un atto formale se è un atto formale e riguarda beni immobili però o beni immobili registrati deve essere un atto pubblico a una scrittura privata autenticata perché questo ci dicono le norme in tema di trascrizione quindi è un atto notarile ma io più che di atto notarile parlerei di atto notarized cioè di un atto notarizzato vedo già il presidente Molinari che mi guarda con aria un po' infastidita dall'uso di questo termine anglosassone perché quando a noi notai ci chiedono magari qualche cliente che opera sull'estero notaio ci hanno chiesto la notarizzazione di questo atto questo atto deve essere notarizzato e noi notai abbiamo un fremito di ribellione perché immaginiamo che la notarizzazione sia praticamente la posizione del nostro sigillo rilasciato alla zecca dello Stato e di apporre la nostra firma così che poi all'estero possano dire che l'Italia è il paese dei timbri e che il notai viene pagato per mettere un timbro che poi non mette neanche lui perché poi tutti i notai che brigano per avere questo sigillo poi nella professione cercavo di non toccarlo assolutamente ma lo fanno perché c'è l'inchiostra olio che macchia macchia le pregiate camicie dei notai dunque è un atto notarizzato ma non è un atto notarile direi subito e nel concordato e nel concordato preventivo nel concordato preventivo concessione dei beni che cos'è come si conclude l'orientamento tradizionale della dottrina ci diceva che nel concordato preventivo non c'è lo spossessamento del debitore e come ha detto il consigliere Macagno oggi però i concordati sono di vario tipo c'è il concordato concessione c'è il concordato senza cessioni dei beni c'è il concordato misto questa destrutturazione confonde tutti tutti noi giuristi di civil law quindi abituati ad avere delle categorie sicure e poi c'è questo articolo 182 comma quinto che richiama le norme sulla vendita fallimentare cosa vi posso dire in prima approssimazione che il concordato preventivo è una procedura concorsuale e su questo non ci sono dubbi che il concordato preventivo concessione dei beni è una vendita che sicuramente non fa non è una vendita volontaria è una vendita coattiva certamente perché se non è volontaria è coattiva è una vendita che avviene secondo le procedure secondo i procedimenti della procedura concorsuale e quindi però si conclude certamente con un atto notarile anche perché c'è la firma del debitore il debitore sottoposto al concordato preventivo firma l'atto notarile di trasferimento probabilmente è un mixtum perché c'è l'atto notarile ma anche qui c'è bisogno del decreto di purgazione anche qui c'è bisogno della cancellazione delle formalità e allora vediamo a questa notarizzazione l'ho preso da un sito internet non so se riuscite a leggere non vi leggo la parte in inglese per evitare che voi possiate sentire la mia pessima pronuncia però vedete che notarizzare con la S o con la Z perché gli inglesi e gli americani scrivono in due modi diversi autenticare come un notaio dovemmo avere la firma notarizzata attestare certificare dare prova manifestare dimostrare fornire prova per costituire prova di allora questa questa notarizzazione che vedete nel significato dal dizionario inglese è fondamentalmente quella di certificazione pura e semplice se noi proviamo a rivalutare la nostra funzione anche nei confronti degli ordinamenti civil law e ci ricordiamo che negli stati del sud degli Stati Uniti c'è il notario di diritto latino e che la Cina ha il notariato di diritto latino e che quasi tutti i paesi dell'Unione Europea hanno il notariato di diritto latino possiamo cercare di capire perché queste economie emergenti queste economie che vanno al 10% di sviluppo ogni anno almeno fino a qualche anno fa andavano così chiedano l'intervento del notaio che invece leggendo i nostri quotidiani economici più accreditati è un orpello un intralcio un rallentamento probabilmente perché la notarizzazione non è un timbro in più probabilmente perché la notarizzazione è un'attività probabilmente perché l'attività del notaio è un'attività che serve a soddisfare degli interessi e a garantire la tutela di altri interessi visto che noi abbiamo bisogno di concludere la procedura competitiva con un atto questo atto che deve essere autentico è un atto notarile e quindi è un atto firmato dal notaio ma la firma del notaio in calcio all'atto è l'ultimo elemento di una fase dell'attività notarile diciamo che è l'ultimo elemento della seconda fase dell'attività notarile la fase dell'attività notarile si compone di tre momenti un po' come il processo civile e le contiguità tra magistrati e notari sono talmente elevate anche non solo per chi come me è stato magistrato da ragazzo c'è l'attività istruttoria c'è la fase di stipula e c'è la fase degli adempimenti che è un po' come praticamente la fase istruttoria la decisione e l'esecuzione e l'attività istruttoria vi dicevo prima questo mirroring questo fatto che si specchiano le procedure destrutturate competitive fallimentari e le esecuzioni individuali ci fa capire come anche nella procedura competitiva noi abbiamo bisogno di una serie di accertamenti un accertamento notarile che è un accertamento sulla verifica del potere di chi firma un accertamento sulla verifica della situazione ipotecaria e un accertamento sulla verifica della situazione catastale cioè il notaio che va a firmare questo atto ibrido deve controllare che innanzitutto chi firmi sia il soggetto legittimato ad apporre quella firma perché se il giudice deve mettere il decreto di trasferimento non c'è dubbio ma viene il curatore chi è il curatore intanto potrebbe essere cambiato intanto c'è un'esigenza istruttoria sulla verifica dei poteri e sulla possibilità di questo soggetto di firmare e se questo nel fallimento è abbastanza semplice nel concordato preventivo noi già abbiamo bisogno di due firme abbiamo bisogno della firma del curatore e del liquidatore del comissario liquidatore insomma delle varie figure che ci sono nel concordato abbiamo bisogno della firma dell'imprenditore quindi se è una società ci avrà una sua modalità di manifestazione della volontà perché il concordato preventivo non è il fallimento non distrugge totalmente l'organizzazione aziendale fermo restando che anche nel fallimento gli organi sociali continuano in qualche modo a vivere e quindi dovrà formarsi questa volontà secondo certe certe forme certe procedimenti secondo la procedimentalizzazione tipica della formazione della volontà degli organi collegiali e quindi è una prima attività che il notaio compie che fondamentalmente deve compiere il notaio non la deve compiere il commissario liquidatore non la deve compiere il giudice dopodiché il problema delle formalità da cancellare sicuramente il consigliere Astuni ci dirà che ci sono dei vincoli che non si possono cancellare ma è fondamentale sia per per il notaio che per soprattutto per l'acquirente anche ovviamente per gli organi della procedura sapere questi vincoli quali sono perché per quelli che si devono cancellare è fondamentale prenderli vederli perché poi vanno cancellati e per quelli che non si possono cancellare è ancora più importante che l'acquirente sappia che ci sono se l'immobile è un immobile sottoposto a vincolo storico-artistico e senza il codice dei beni culturali non è che perché è stato di proprietà del fallito perde la sua natura di beni culturali ovviamente questa cosa va verificata e la deve verificare ovviamente il notaio tra l'altro per i vincoli sui beni culturali come i colleghi sanno non basta la visura ventennale bisogna fare degli accertamenti che a volte sono anche un po' da magia bianca perché sapere se un bene è vincolato è piuttosto complicato soprattutto se il vincolo non è trascritto e poi c'è la questione dei beni che sono di proprietà delle persone giuridiche private e che hanno più di i beni immobili hanno più di 50 anni di vita per cui il bene è vincolato di per sé anche se magari è una catapecchia di ruta e poi c'è il problema della verifica della situazione catastale sulla verifica della situazione catastale mi scuso sin d'ora con gli avvocati e commercialisti dovremo essere un po' pedanti perché la legge è molto stringente andiamo all'istruttoria di cui ipotecaria l'istruttoria ipotecaria è quella che nell'esecuzione individuale viene sostituita dal certificato rilasciato articolo 567 del codice di procedura civile cioè il certificato ipotecario rilasciato dal conservatore dei registri immobiliari ovvero praticamente dal certificato notarile sostitutivo da questo documento che nel caso di una vendita fallimentare non è indispensabile si evidenziano tutti quei vincoli di cui parlavo prima vi ho detto che non è indispensabile un certificato notarile può essere che il curatore lo richieda al notaio anche per darne evidenza agli acquirenti ma in ogni caso io non avrei dubbi sul fatto che ancorché sia vendita coattiva la responsabilità e i compiti soprattutto del notaio nel firmare quell'atto di trasferimento ancorché atto pseudo negoziale ancorché atto fondamentalmente quasi giudiziario sono gli stessi che una vendita ordinaria cioè come il notaio che stipula una comprensione ordinaria deve accertare almeno la pulizia nel ventennio da vincoli e ipoteche così nell'andare a stipulare l'atto di trasferimento conclusivo della vendita fallimentare deve andare a verificare quali sono i vincoli quali sono le trascrizioni pregiudizievoli quali sono le ipoteche e tutto il resto e questa è l'istruttoria ipotecaria che si chiama poi ipocatastale perché ovviamente come i colleghi sanno l'istruttoria ipotecaria non può mai essere disgiunta da un'istruttoria catastale perché altrimenti non si riesce a compiere correttamente l'istruttoria ipotecaria l'istruttoria catastale è qualcosa che per i notai diciamo più giovani per i notai più giovani è chiaramente una cosa evidente perché i dati catastali sono sostanzialmente fondamentali per la trascrizione hanno acquisito una valenza nettamente civilistica e l'irregolarità catastale dà praticamente una grossa problematica all'atto di trasferimento perché addirittura fondamentalmente l'atto è nullo se non c'è dichiarazione di conformità siccome l'atto notarile di conclusione della procedura fallimentare è un atto esecutivo sì giudiziario ma è anche un atto che entra nella circolazione dell'immobile come titolo è chiaro che il notario deve stare attento a che le planimetrie catastali siano conformi sicuramente io direi anche se non c'è scritto da nessuna parte l'assenza di conformità della planimetria catastale non impedisce la vendita fallimentare ma certamente è una cosa che il curatore deve sapere il curatore potrebbe ritenere che invece la norma si applica anche alle vendite coattive e analogamente il giudice potrebbe ritenere che si applica e potrebbe ritenere l'opportunità di porre a norma le planimetrie catastali lo stesso problema si pone per la disciplina urbanistica la disciplina urbanistica ha un'esclusione espressa nel test unico dell'edilizia per le esecuzioni individuali e concorsuali per cui se anche l'immobile è abusivo si può ugualmente vendere all'asta ma non è così certamente invece non è così certo per il certificato di destinazione urbanistica perché l'articolo 30 del test unico dell'edilizia non duplica la norma sulla regolarità urbanistica e quindi ci sono dei dubbi in realtà la legge parla di atti travivi quando impone l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica e l'articolo 567 del codice di procedura civile sull'obbligo di avere questo atto questo documento o l'articolo 591 bis in materia di delega al professionista non sono duplicati ovviamente nelle norme sull'esecuzione fallimentare per cui io direi che il CDU non è indispensabile appena di validità ma è sicuramente opportuno allegarlo sapete che negli atti notarili occorre allegare il certificato energetico cioè l'attestato di prestazione energetica non vi sto a fare la storia della disciplina sulla certificazione energetica che in quanti anni in otto anni è cambiata forse dieci volte adesso non è più prevista appena di nullità secondo me lo dice anche il consiglio nazionale notariato non occorre allegare l'attestato di prestazione energetica al decreto di trasferimento ma ovviamente il giudice potrebbe fare le sue valutazioni gli ultimi due minuti sono sul problema della vendita fallimentare eseguita dal curatore in esecuzione di un preliminare stipulato al fallito in bonus ho parlato di vendita fallimentare perché secondo me il curatore fallimentare che decida di dare esecuzione a un preliminare stipulato al fallito in bonus in buona sostanza pone in essere una vendita acquattiva pone in essere una vendita acquattiva perché la formazione della volontà è analoga a quella nella formazione della volontà del fallimento è analoga a quella che si è avuta nella vendita fallimentare a procedure competitive col programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori è un atto di liquidazione fallimentare e quindi probabilmente sicuramente si può concludersi con un decreto di purgazione così come per il concordato preventivo sul fatto che alla fine del concordato preventivo l'atto notarile possa essere seguito da un decreto di purgazione c'era mai un po' di giurisprudenza di merito che trovate sul sito del caso anche se ovviamente sono pronunzie di primo grado l'ultimissimo argomento è quello dell'articolo 8 del decreto legislativo 122 del 2005 questa è una norma rafforzata tra l'altro dall'articolo 10 quater del decreto legge 47 2014 convertito in una legge 80 del 2014 che vieta al notaio di procedere alla stipula dell'atto di compravendita se anteriormente o contestualmente alla stipula non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia cioè è un articolo che vieta al notaio di vendere immobili che rientrano nel disposto del decreto 122 cioè immobili di nuova costruzione venduti dal costruttore se l'ipoteca non è cancellata e allora quando il notaio deve andare a firmare l'atto di trasferimento dell'immobile da costruire o che comunque rientri nella normativa senza che sia stato preventivamente messo il decreto di purgazione è notevolissima difficoltà io francamente non me la sono sentita di firmare l'atto senza il decreto preventivo il giudice non se l'è sentita giustamente di firmare il decreto di purgazione prima che fosse eseguita la vendita abbiamo trovato una soluzione pratica non so quanto sia possa piacere puristi del diritto abbiamo stipulato l'atto per scrittura privata autenticata per cui si è stipulata la vendita quindi si è eseguita il prezzo è stato pagato il giudice ha emesso il decreto e io poi ho autenticato l'atto però questa è una soluzione pratica che non so se possa essere possa piacervi quindi diciamo che il notaio che partiva come certificatore e che poi è passato a essere assicuratore del contratto direi che oggi è diventato una sorta di paracadute della legalità cioè un giurista che in qualche modo viene a tutelare tutti gli attori del processo fallimentare per far sì che questo processo possa arrivare a conclusione con la liquidazione delle attività nel modo corretto e l'acquisizione di un titolo di proprietà dell'immobile che possa poi circolare liberamente vi ringrazio benissimo grazie anche a notario Calderoli dunque adesso è previsto un break vi chiedo cortesemente di contenerlo in 10 minuti e nel rispetto dei relatori di essere puntuali alla ripresa dei lavori quindi ci vediamo esattamente alle 11 e 30 qui grazie vi ricordo il caffè sociale qui di fianco grazie grazie